Si è svolta sulla rotonda del lungomare di Taranto la Domenica dei Tarantini. Si tratta della quarta tappa dell'iniziativa organizzata dall'Associazione Genitori Tarantini. Questa settimana è stato affrontato il tema evacuazione, parliamone. Affacciati sul Mar Grande, enorme risorsa per tutti, sono state lette le linee guida per la tutela dei cittadini nella ipotesi di un incidente rilevante. Vogliamo parlarne in modo da avere anche la possibilità di portare con noi in caso di incontro con il prefetto qualche singolo cittadino che ne vuole sapere di più. Chiaramente non abbiamo trovato notizie oltre il 2014 e adesso siamo al 2021, ci sembra particolarmente grave non aver aggiornato questo piano, tenendo conto che per esempio per quanto riguarda l'ILVA si dice che per tipologia di lavorazioni e di materiali usati non è prevedibile un incidente rilevante che arrivi all'esterno della fabbrica. Se devo fare una considerazione assolutamente personale, ritengo che un semplice wind day, quello che fa alzare la polvere che ci entra nei polmoni a partire dagli abitanti del quartiere Tamburi, ha tutte le prerogative per essere considerato un incidente rilevante perché va ad intaccare totalmente la salute dei cittadini.